Il sito archeologico di Velia ha registrato un'estate da record nonostante l'emergenza sanitaria, con un incremento dei visitatori del 59% rispetto allo scorso anno, nel periodo dal 21 giugno al 6 settembre 2020. Il mese di agosto in particolare ha visto un incremento del 117% delle visite. Nel mese di febbraio 2020 il sito Magno Greco, padre del filosofo presocratico Parmenide, è stato accorpato all'autonomia di Pestum su volontà del ministro dei beni culturali e del turismo Dario Franceschini. I flussi in forte aumento rappresentano una prima conferma oggettiva che la fusione delle due realtà di Velia e Pestum sta funzionando, dichiara il direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel. Analizzando i dati, infatti, si evince che molte delle persone che hanno visitato Velia avevano già acquistato il biglietto cumulativo a Pestum. Moltissimi anche gli abbonamenti annuali che abbiamo venduti. Sicuramente è inciso positivamente anche la messa in sicurezza e riapertura al pubblico di molte aree e monumenti, tra cui Porta Rosa, simbolo del sito archeologico, interdetto al pubblico alcuni anni fa, e il boom del turismo domestico estivo nel Cilento, determinato dalla crisi sanitaria.